Direi che è un'esperienza unica quella di entrare dentro una delle numerose grotte che il territorio della città di Cusani ci offre e l'abbiamo voluta inserire all'interno del circuito dei Borghi dei Tesori Fest perché riteniamo che sia un'ulteriore possibilità per conoscere un territorio e in questa maniera userei dire in maniera approfondita, anche il termine stesso ci aiuta perché si scenderà circa fino a 60 metri di profondità e sarà uno dei tesori che apriremo in occasione di questa edizione 2024. Dare una chicca, ovvero qualcosa di unico, di originale e che ci auguriamo tanti visitatori, turisti, possano approfittare nell'occasione proprio di questi Borghi dei Tesori Fest 2024. Perché Grotta della clava? Perché più in basso, ora quando scenderemo, troveremo due grandi e più di due, per la verità, dislocate su più livelli, stalagmiti, stalagmiti che si sono formati nel corso di migliaia di anni a forma di clava. Siamo nella cosiddetta sala dell'altare perché quella che vedete alle mie spalle è tutta una formazione di calcite che si è praticamente riversata su questo versantino e ha creato queste colate con un effetto scenico che fa ricordare delle cascate, cascatelle e quindi un drappeggio che, come dire, dà un colpo d'occhio veramente fantastico in tutto questo contesto. L'esperienza in Grotta sembra quasi che il tempo là dentro si fermava, però noi facevamo di fatto otto ore, dodici ore di rilievi. Sì, eravamo quattro persone ed era un'esperienza particolare veramente perché là dentro il tempo si fermava. Tu uscivi da là dentro e ti sentivi a un certo punto, ah sono di nuovo nel mondo, sono già le otto di sera, le nove di sera. Ed era un'esperienza particolare, però è stato necessario perché purtroppo il rilevo l'ho fatto con molta delicatezza, molta accortezza, perché è un ambiente delicatissimo. Allora, il percorso che abbiamo fatto, questo è il punto d'ingresso, piccolissimo, saranno pochi decimetri d'ingresso. Dopo di ciò c'è una rampa che scende e scende a meno 10, poi abbiamo fatto un percorso quasi in orizzontale che ci ha portato a vedere tutta la parte alta, la parte con concrezioni, speleotemi, principalmente eccentriche, cortine. Da questo punto siamo scesi giù e siamo arrivati fino alla porta del paradiso. L'abbiamo chiamata così perché da questo punto si accede ad un ambiente un po' particolare, dove c'è l'altare, le tre marie, diciamo questi nomi un po' sacri hanno un loro significato perché dopo che si fanno tanti rilievi, si guardano con molta attenzione, si studiano, questi ambienti poi per noi diventano veramente sacri. E quindi ogni speleotema ha un nome, proprio un nome proprio, glielo abbiamo dato, e viene studiato anche per le sue caratteristiche e in questa grotta è la clava per le sue peculiarità. Grazie. Grazie. Grazie.